E allora dicevamo che Assogestioni ha raccolto in una serie di interviste filmate quelle che sono le memorie, i ricordi, anche alcuni aneddoti e le analisi di chi ha fondato 30 anni fa l'industria del risparmio e gestito. Adesso li metteremo rapidamente a confronto invece con chi in questo momento è in prima linea della vostra industria e anche all'interno di Assogestioni. Il nostro primo ospite che invito sul palco insieme a me è Walter Ottolenghi che è presidente di Mediolanum gestione fondi SGR ed è anche membro dell'esecutivo di Assogestioni. Benvenuto Ottolenghi, ci dobbiamo accomodare qui, mi avevano promesso un tavolo alla David Letterman, io mi stavo già gasando, poi mi sono ritrovato questo catafalco napoleonico, ma ci va benissimo lo stesso, sarebbe stato più destabilizzante. Allora dicevamo che quegli anni Ottanta in cui in televisione andava Starsky Hatch se non sbaglio, che abbiamo sentito adesso, sono gli anni in cui una generazione di professionisti dell'economia si avvicinava alla finanza proprio con lo spirito di aprire una strada nuova. Le voglio proporre subito una prima clip che testimonia anche lo spirito e la passione e l'entusiasmo quasi incosciente con cui lo facevano. Sentite Angelo Abbondio, lo conoscete tutti, mitico fondatore del fondo professionale, poi esprinde Sinfonia SGR. Sentite come ricorda. Dal punto di vista professionale il mio avvicinamento alla finanza è stato graduale e assolutamente non casuale. Io facevo ragioneria serale, mi ricordo quando tornavo da scuola e c'era la banca Rasini che esponeva il listino di borsa e io alle 11, 11 e mezza di sera mi fermavo a guardare il listino di borsa di quella giornata, ma solamente per passione. Se avessi vicino a me una rivista Playboy o un bilancio, per prima cosa guarderei il bilancio. Dottor Ottolenghi, anche lei preferiva il calepino dell'azionista di Mediobanca alle altre pubblicazioni? No, direi di no. È un po' una domanda da David Letterman. Per tirarla fuori di paccio, le faccio invece vedere quali sono state nei ricordi di chi c'era allora e di chi ha vissuto quei passaggi alcune tappe fondamentali che hanno aperto la strada alla fondazione dell'industria del risparmio gestito sia dal punto di vista normativo che delle società che si sono create in quel momento. Tra gli altri Giulio Baseggio, il professor Visentini e Guido Cammarano in questa clip. Nel 1983 venne approvata la famosa legge che permetteva di istituire i fondi comuni di investimento anche in Italia. Da lì naturalmente è partita la costituzione delle società, e i contatti con la Consol per rivolgere il prospetto informativo e la messa a punto di tutti i meccanismi necessari a far funzionare i fondi di investimento italiani in Italia. Nel giugno del 1984 venne alla luce il primo fondo di investimento italiano, Gestiras, seguito a breve distanza dai fondi di Fideuram e poi man mano da tutti gli altri fondi. Il risparmio gestito prima è sorto attraverso l'utilizzo di strumenti come gli enti di gestione e le fiduciarie atipici. Nel contempo Andreatta mi aveva chiamato, allora c'era anche Camarano, per redigere la legge sui fondi comuni. La legislazione per vicende di scelte politiche è stata fatta al fine di porre in concorrenza la raccolta bancaria e la raccolta diretta, quindi al fine di sviluppare la borsa. In sede di approvazione della legge è rimasto aperto né solo bancario né solo di impresa. Come lo sapete sono nati diversi fondi privati. L'Olivetti è stato uno dei più grossi, ma anche la Fiat l'aveva fatto. Mi hanno chiamato, che era appena cominciata, che era stata appena costituita un anno prima. Ho presentato e cominciavo da solo, in uno scantinato di Palazzo Altieri. Poi cominciai a raccogliere intorno a me dei partner molto bravi, e così abbiamo fatto un buon servizio alle società, erano soddisfatte, e poi quindi a mano a mano ci siamo ampliati. Toro Tolenghi, qual è stata la chiave alla partenza dell'industria che le ricorda? Guardi, io ricordo che proprio in quegli anni lavoravo in un grosso gruppo bancario italiano e mi ricordo come fu presa in mano questa questione della nascita dei fondi di investimento. Le banche non li videro subito bene? Ci si credeva e non ci si credeva. La mia sensazione di allora, chiaramente con un'esperienza ancora abbastanza limitata del mondo della finanza, data fortunatamente l'età di allora, era che lo si facesse più per dovere istituzionale che non per una profonda convinzione di servizio alla clientela o di business. Sta di fatto che il prodotto fu lanciato e in pochissime settimane si fece il budget di raccolta di un anno. Quindi la cosa straordinaria fu la risposta entusiastica non sollecitata del pubblico. E lì si dovettero cominciare a fare i conti con le strutture che dovevano essere create a fronte di questo prorompere di una domanda che nessuno onestamente aveva previsto. In effetti questo è un po' un filo comune nel ricordo di tutti i fondatori, cioè la risposta che andò oltre le aspettative dei risparmiatori italiani. Sentiamo Francesco Taranto a sua volta, uno dei pionieri di questa industria. Beh, certamente, con grande curiosità, con interesse e progressivamente con grande attenzione concreta. Diciamo che nel primo fondo nasce italiano, nasce giugno dell'84. Il grande boom dei fondi è stato nell'85, molto buono, coincidentemente anche con l'andamento dei mercati azionari positivi e delle economie positive e un'esplosione purtroppo del tutto irrazionale nell'86. Esplosione irrazionale perché poi arrivò l'87, quindi lunedì nero e molti si pentirono di quello che avevano fatto. Ma sì, io direi che abbiamo visto spesso nella nostra industria la congiuntura sovrapporsi alla tendenza, come succede spesso nei fenomeni economici, in particolare finanziari. È vero, ma ciò non contraddisse quella che fu una parabola di crescita che poi dimostrò di avere delle basi molto solide. Per cui è vero che spesso all'inizio di questi fenomeni, come dire, il mercato si fa un po' prendere la mano. Però l'intuizione era sostanzialmente sana. Anche adesso, e lo ha ricordato anche Fabio Galli in apertura, siamo in un momento estremamente positivo dal 2013 in avanti, siamo tornati a livelli record del sistema di asset under management, cioè dei fondi che gli italiani affidano al risparmio gestito. Che analogie, che differenze vede lei tra quella che fu la risposta di allora e come adesso gli italiani vivono i fondi? Beh, ricordiamo che allora l'industria si muoveva in un ambito molto limitato quanto a possibilità operative. Parlo dal punto di vista della gestione in particolare. Eravamo in un regime, per esempio, di vincoli valutari, di chiusura del mercato italiano, di limitata possibilità quindi di diversificazione. Chiaramente quel entusiasmo di raccolta si riversò in un imbuto strutturalmente troppo stretto per poter soddisfare in modo adeguato questo incremento della domanda. Io credo che di analogie non ce ne siano molte, tranne forse una che anche oggi, come allora, questa crescita della raccolta coincide e coincise con una forte fase di disintermediazione del sistema bancario. Lascio, penso da altri tavoli, l'analisi delle analogie tra queste due fasi di disintermediazione, però credo che le analogie si fermino qui. Oggi siamo di fronte a un mercato molto diverso, è molto diversa la geografia dei sottoscrittori, molto diversa la consapevolezza, è molto diversa la qualità della consulenza che viene loro fornita e soprattutto è molto diversa la possibilità operativa dei gestori nel diversificare gli investimenti a livello globale. Ho cercato di capire anche quale in questi 30 anni è stato il momento di svolta davvero che ha fatto cambiare le cose, che ha fatto decollare il sistema. L'abbiamo chiesto non solo a uomini storici dell'industria, come Giulio Baseggio, che li sentirete ora, ma anche a giornalisti che dal primo momento hanno raccontato questa industria, come Gabriele Capolino, che è direttore, editore associato di Milano Finanza. Sentiamoli. Direi che un evento storico in negativo fu il famoso ottobre nero di Wall Street, quando tutto crollò. Ecco, lì l'industria dei fondi resse molto bene e dimostrò la sua capacità di superare anche situazioni pesanti di crisi come quella. Secondo me quello è stato uno dei fattori che ha determinato poi nel lungo tempo il successo dei fondi. Era intorno al 1993, i bot scendevano sotto il 7% di interesse e contemporaneamente veniva privatizzato il credito italiano con una bella ragazza in doppio petto grigio, ve la ricorderete, che diceva invece dei bot c'è il credit. Il grande afflusso di denari fu una delle prime privatizzazioni. Con la discesa dei bot, quello sì fu una miscela che cambiò e ancora, diciamo da allora, fu il grande boost del risparmio gestito, io lo ricordo da allora. Quello mi è ancora presente come momento. Fottolenghi, alcuni momenti sono stati i crack che hanno insegnato agli italiani come la diversificazione sia uno strumento di investimento razionale e dall'altro anche questi momenti in cui i tassi di interesse che le famiglie erano abituate a vedere sui titoli di Stato hanno iniziato a calare e poi la stagione delle privatizzazioni. Per lei invece qual è stato il momento di svolta? Ma sicuramente dal punto di vista cronologico i primi anni 90 hanno costituito credo un momento in cui la consapevolezza degli investitori italiani, dei risparmiatori italiani verso il prodotto fondo è andata sicuramente crescendo. Ma credo che sia stato veramente un itinerario tutto sommato abbastanza graduale e regolare nonostante questi momenti particolari. Direi anzi che 30 anni di storia sono stati connotati dal fatto che mentre molti settori dell'industria finanziaria conoscevano delle vere e proprie fasi non solo di crisi ma anche di forte perdita di credibilità anche sul piano etico, l'industria dei fondi è passata in mezzo a tutte queste fasi senza registrare nessun episodio, passatemi il termine, clamoroso. Questo è interessante perché riguarda il rapporto di fiducia tra gli italiani e questo pezzo dell'industria finanziaria. Guardate nelle classifiche che noi come giornalisti proponiamo periodicamente sulle istituzioni di cui si fidano gli italiani, le istituzioni finanziarie e le banche in particolare finiscono sempre agli ultimi posti. Ma quando si parla di fondi di investimento questo dato invece è migliore. In questi 30 anni è cambiata anche molto la normativa per la tutela dei risparmiatori. Francesco Taranto la ricorda così. Progressivamente sempre di più ci furono normative a livello di Consob, a livello di Banca d'Italia, che rappresentarono una salvaguardia per il risparmiatore. Non è un caso che il mondo dei fondi sia stato esente da fenomeni di fallimento. Poi la MIFID è diventato uno strumento quasi decisivo, direi decisivo, importantissimo. Allora, basta questo per essere soddisfatti, oppure il fatto che nonostante le masse aumentino in maniera considerevole, ma il numero dei sottoscrittori dei fondi italiani resti sostanzialmente stabile nel tempo, ci dice che l'industria potrebbe anche far qualcosa per fare dei passi ulteriori in avanti. Beh, io penso che qua basterebbe un raffronto internazionale, non tanto in termini di raccolta di questi anni, dove abbiamo visto che ne usciamo in termini più che lusinghieri, ma proprio in termini di stock, cioè di presenza di strumenti di risparmio gestito, di fondi particolari, nella classificazione del risparmio delle famiglie italiane. Da questo punto di vista, credo che ci sia ancora molta strada davanti a noi, questo significa non solo uno spazio di opportunità di crescita puramente statistico, ma significa anche che i bisogni, in termini di allocazione del risparmio a lungo termine, con una, diciamo, una connotazione di stabilità, dettata questa volta non da spinte dirigistiche, ma dalla consapevolezza di un'esigenza di risparmio nel lungo termine, penso anche agli aspetti previdenziali che questo possa comportare. Ebbene, tutto questo sicuramente rappresenta insieme l'opportunità e la sfida. L'opportunità self-explaining si vede dai numeri e dai raffronti, la sfida chiaramente è una battaglia culturale da fare, è una battaglia professionale. Io credo che quest'industria, affiancata anche da una crescita della distribuzione e della consulenza, abbia risposto con serietà e consapevolezza finora a questa sfida, ma certamente ancora molto c'è da fare, direi anche in termini quantitativi e non solo qualitativi. Lei ha toccato il tema della distribuzione, che è essenziale nel guardare anche al futuro dell'industria. Abbiamo visto come la distribuzione bancaria, retail, sia stata protagonista in questi due anni di grande riscossa del sistema. Come all'orizzonte arrivino innovazioni assolute? Pensate a Google, Facebook, a chi proporrà anche i prodotti del risparmio direttamente online. Ma poi naturalmente c'è il canale dei promotori, che ha giocato un ruolo molto importante. Lo testimonia sia chi l'ha visto nascere, come Giorgio Forti, storico presidente della prima Fideuram, sia chi come Tommaso Corcos, che è amministratore delegato di Horizon Capital, in questo momento ha un rapporto diretto con le reti. Sentiamoli. Beh, le cito solo un fatto. Alcuni direttori generali di banca venivano in Banca Fideuram a capire come si fa a vendere. Perché, parlo degli anni 70, le banche facevano raccolta ed erogazione di crediti. Capì che l'allargarsi del mercato avrebbe giovato a tutti. Mi pare che il promotore sia sempre l'asse centrale. Le reti di vendita, naturalmente, con una formazione severa, facevano un servizio più completo, cosa che continua tuttora. C'è una consulenza, e infatti noi la definimmo consulenza finanziaria. Il promotore finanziario, io preferisco chiamarlo consulente finanziario, credo che sia uno straordinario elemento di favore per far stare tranquillo anche il cliente. Questo è sicuramente uno dei grandi lavori che deve fare il consulente finanziario, quello di far capire al risparmiatore l'importanza della diversificazione e l'importanza anche di una corretta pianificazione finanziaria per fargli vivere più serenamente i momenti di difficoltà dei mercati che naturalmente ci saranno sempre. La Corcos dice che bisogna che il promotore riesca a tranquillizzare sostanzialmente il risparmiatore nei momenti difficili, certamente è una delle componenti di questo lavoro. Ora, dal primo dicembre, da questa settimana, i fondi possono essere formalmente quotati. che è una rivoluzione per questo mondo e nel 2016 arriverà anche Mifid 2. Come vede l'insieme di questi cambiamenti rispetto all'evoluzione del canale dei promotori finanziari per i fondi? Ma guardi, io partirei da una considerazione. Lo slogan di oggi è 30 anni. Questi 30 anni, se ci pensiamo, hanno coinciso anche con la fase più tumultuosa della rivoluzione digitale. Paradossalmente, ma neanche tanto, questa capillare diffusione dello strumento informatico che è arrivato in tutte le famiglie, nonostante quello che si dica in tutte le classi anagrafiche e a tutti i livelli dell'industria, l'importanza della professionalità della consulenza è stata, vi è più, esaltata in questa situazione. Perché di fatto, come argomentazione quasi a contrario, ma neanche troppo, è risultato molto evidente che più informazioni si ricevono, più risulta importante, per le decisioni di maggior rilievo, avere a disposizione una figura professionale con cui dialogare. Quindi, è vero, ci saranno innovazioni nei prossimi mesi che porteranno maggiori, diciamo, facilitazioni operative. e benvengano e ci aspettiamo sicuramente un aiuto in questa industria, da queste innovazioni. La mia personale convinzione è che ancora di più la professionalità di chi dialoga con il sottoscrittore, con chi lo sa guidare non solo con effetto sedativo nei momenti difficili, per carità, è importantissimo, ma con una paziente e direi continua opera di educazione finanziaria e di pianificazione dei propri bisogni nell'arco della propria vita. Ecco, questo sarà uno dei fattori che più contribuiranno alla crescita sana e solida di questo. E la sfida di questi anni è andare oltre la vendita solo del risultato, del fondo o del prodotto, far emergere le esigenze finanziarie della famiglia del risparmiatore. Giulio Baseggio su questo. Io farei un discorso un po' delicato, però bisogna guardarsi negli occhi e dire le cose come stanno. È vero che c'è un forte incremento nella raccolta dei fondi di investimento. Una delle massime che ci si trascina dietro da sempre è che non si vende il risultato. Però i risultati passati, guarda caso, hanno sempre una certa importanza nel collocare un fondo. Il che, tutto sommato, non è un male, perché se dobbiamo affrontare un cambiamento con rialzo dei tassi, riduzione dei corsi e cose di questo genere, beh, per il risparmiatore medio è certamente più logico e più sicuro farlo attraverso un fondo che non con il fai da te. È cambiato moltissimo. Tanto sono cambiati i mercati, sono cambiati gli scenari, sono cambiati le disponibilità di investimento a disposizione del privato. Le banche si sono mosse moltissimo e quindi prima c'era niente o poco. Adesso la gamma dei prodotti, anche non fondi, è piuttosto notevole. Quindi la cultura è sicuramente aumentata. E la percezione dei rischi, la percezione di quello che si sta facendo è sicuramente migliore che non nel passato. Ecco, su questo, su quello che si può fare però per andare anche oltre in termini di creare una cultura finanziaria degli italiani che li avvicini ulteriormente al mondo dei fondi. Sentiamo cosa la pensa ancora Gabriele Capolino. Guarda, sicuramente sì. Sicuramente sì. Possono farlo i media, possono fare le associazioni di categoria come le ha soggestioni, può farlo un progetto charity o non profit, ma finché io non vedrò. Nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori un corso, così come una volta c'era l'educazione civica, rimettere l'educazione civica, ma mettere l'educazione finanziaria, io a questo discorso non crederò mai. Non è più possibile, questo Paese non se lo può più permettere, ma non vedo ai livelli del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, dell'Università e di quant'altro una sensibilità su questo. Allora, niente scuola, niente educazione finanziaria nelle nostre scuole. Voglio chiudere con Leo Tolenghi guardando anche al futuro dei fondi, come lo vede lei. Vi propongo due riflessioni che sono quelle di Massimo Tosato, di Schroeder insieme a quella di Francesco Taranto. Io credo che ci siano due fattori principali che influenzeranno il modello produzione e distribuzione nei prossimi anni. Il primo, relativo all'evoluzione della legislazione, porterà con il Mifid2 a una maggiore trasparenza dei costi per il cliente finale. Ci sarà una chiara separazione tra la remunerazione che va alla distribuzione rispetto alla remunerazione che va alla gestione. Il secondo fattore importante è l'innovazione digitale. Stanno crescendo numerosi modelli di distribuzione di servizi di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento che nel tempo porteranno a una quota di mercato rilevante distribuita in modo digitale. Io ritengo che il modello attuale sia già un modello evoluto nel senso che sostanzialmente c'è la possibilità di investire ovunque nel mondo di avere strumenti di investimento adeguati per diversificare il proprio portafoglio di poter contare anche su un sistema distributivo che si è consolidato molto si è professionalizzato e quindi è in grado di offrire un risparmiatore che però deve continuare a istruirsi a istruirsi informarsi attraverso la stampa attraverso quanto internet consente penso che ci sia già un sistema oggi con delle solide basi e che questo potrà svilupparsi in seguito così come si è sviluppato nelle altre realtà internazionali molto prima di noi ma verso le quali oggi abbiamo una sostanziale parità non vedo delle distanze non vedo dei problemi particolari. Come vede lei i prossimi 30 anni il futuro dei fondi? Bene ne riparleremo tra 30 anni sicuramente comunque io credo che quanto accennavano i colleghi sull'evoluzione in corso a livello soprattutto di quantità e qualità di informazione avrà sicuramente una grossa influenza un risparmiatore più evoluto più consapevole è sicuramente un risparmiatore con il quale il dialogo tra industria e utenza finale passatemi il termine sarà sicuramente più proficuo per entrambi ciò premesso non credo che il futuro di questa industria sia il fai da te correttamente informato questo non basta abbiamo visto in passato prodotti anche molto sofisticati che hanno puntato in maniera forse troppo entusiastica su forme di approccio troppo diretto e non vorrei citare classi però abbiamo visto proprio classi di prodotto arrivare e uscire dal mercato con una rapidità sorprendente io credo che l'industria debba fare tesoro di queste esperienze a tutti i livelli e pensare nell'evoluzione del prodotto soprattutto a prodotti che colgano il bisogno di lungo termine del risparmiatore e su questo costruire la strategia di informazione di dialogo e di consulenza credo che anche nei prossimi trent'anni come già negli ultimi trent'anni questa sarà veramente la carta vincente e su questo credo che questa industria avrà ancora molto da dire e molto da fare grazie ancora Walter Ottolenghi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti